Nelle ultime settimane la variante al piano costa ha subito un'accelerazione per i gravi danni che ha subito soprattutto il litorale maceratese. Oggi un incontro, un bilancio positivo? Beh, direi un bilancio ancora interlocutorio, nel senso che sono caduti 5 balneari, ogni grande mareggiata sta cascando un balneare, quindi la situazione drammatica del turismo e dell'economia che sta vivendo Porto Recanati richiede un intervento tempestivo, stiamo correndo dietro le cose purtroppo e quindi mi auguro che settimana prossima venga approvata la variante al piano della costa e quindi che consente di fare finalmente scogliere e pennelli a difesa di quello che ancora si può difendere. Nel frattempo occorre che vengano posti grandi massi o blocchi di cemento, meglio ancora, davanti ai balneari più esposti perché in questo modo non solo si difende la proprietà privata che è comunque un'ottima cosa, ma si difende immediatamente quello che c'è dietro al balneare privato e cioè le infrastrutture, la rete fognaria, la strada e la ferrovia. Quindi mi auguro che il sindaco di Porto Recanati finalmente, prima o poi, si decida, quanto prima, anzi prima possibile, a emettere un'ordinanza contingibile e urgente per acconsentire agli chalet che ne hanno fatto richiesta di porre a loro spese, tra l'altro, a loro spese i blocchi di cemento o grandi massi davanti agli chalet come ha fatto il sindaco di Porto Sant'Elpidio e come ha fatto anche il precedente sindaco di Porto Recanati. Se farà questo la regione nulla potrà dire, nulla potrà obiettare, perché non ha strumenti repressivi da questo punto di vista.